...in avanscoperta. Cerca di non disonorarci oltre. Qual è la missione? Mio fratello non mi ha detto nulla. Solo che devo essere onorato dell'invito. Pensiamo che i Templari abbiano trovato qualcosa sotto il monte del Tempio. Un tesoro? Non lo so. Ciò che conta è che il Maestro lo considera importante. Altrimenti non mi avrebbe chiesto di recuperarlo. Non mi avrebbe chiesto. Lì. Quella deve essere l'arca. È l'arca dell'Alleanza. Non essere stupido. Quella non esiste. È solo una favola. Allora cos'è? Zitti. Arriva qualcuno. Voglio che superiamo quelle sbarre entro l'alba. Prima sarà nostro. Prima potremo volgere la nostra attenzione su quegli sciacalli di Masiaff. Roberto di Sable. La sua vita è mia. No. Dobbiamo recuperare il tesoro e affrontare Roberto solo se necessario. Si frappone tra noi adesso. Direi che è necessario. Discrezione, Altair. Codardia vuoi dire. È il nostro peggior nemico. e abbiamo l'occasione di disfarceli. Hai già violato due principi del nostro credo. Così violeresti il terzo. Non compromettere la confraternita. Ti sono superiore. Per titolo e per abilità. Non mettere in questione ciò che dico. è vinito. Faccio. Alessia. Sono mafia di bisogno. Francesca. fermi templari non siete i soli ad avere interessi qua bene questo spiega il mio uomo mancante e che cos'è che volete sangue non sai in che cosa ti mischi assassino che risparmio solo perché tu possa andare a riferire questo al tuo maestro la terra salta non è più sua dovrebbe fuggire finché può se rimane a tutti voi marrete uomini alle armi uccidete gli assassini non 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 Passaggio a un ricordo più recente. Altair, sei tornato! Rauf. Mi fa piacere vederti il leso, dai. Immagino che la tua missione sia riuscita. Il maestro è nella torre? Sì, sì. Sepolto fra i libri come sempre. Di sicuro ti aspetta. Grazie, fratello. Salute e pace, Altair. Altrettanto. Altair, sei tornato. Altair, sei tornato. No, 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 no. Da che cosa sta scappando? Che spettacolo, chissà se lo farà di nuovo. Farà male a qualcuno. Ah, eccolo di ritorno. Ma, Buzz... Dove sono gli altri? Li hai anticipati sperando di essere il primo a tornare? So che detesti condividere con altri la gloria. Il silenzio è solo un'altra forma di assenso. Non hai niente di meglio da fare. Rec ordini dal maestro. Ti attende nella biblioteca. Sbrigati, su. Senza dubbio sarei ansioso di leccargli gli stivali. Un'altra parola e ti punto la lama alla gola. Più tardi ne avremo tutto il tempo. Fratello. Dari. È un onore. Il maestro attende all'interno. Altair. Maestro. Vieni avanti. Dimmi della tua missione. Confido che tu abbia recuperato il tesoro dei Templari. C'è stato un contrattempo. Roberto di Sable non era solo. Quando mai il nostro lavoro va come previsto? È la nostra capacità d'adattamento che ci rende ciò che siamo. Questa volta non è bastata. Che vuoi dire? Vi ho deluso. Il tesoro? L'hanno preso. E Roberto? Fuggito. Io mando te, il mio uomo migliore, a svolgere la missione più importante di qualunque altra prima d'ora. E tu ritorni da me con nient'altro che scuse e giustificazioni? Io... Non parlare. Non un'altra parola. Non è questo ciò che mi aspettavo. Dovremmo organizzare un'altra forza. Vi giuro che lo troverò, maestro. Androa... No! Tu non farai nulla. Hai fatto abbastanza. Dove sono Malik e Kadar? Morti. No! Non morti. Malik... Io vivo ancora. E tuo fratello? No! Per colpa tua! Mi hanno spinto fuori dalla sala. Non potevo rientrare. Non potevo fare niente. Perché non hai voluto darmi ascolto? Questo si poteva evitare! Per il mio fratello. Il mio fratello sarebbe ancora vivo! Oggi la tua arroganza ci è quasi costata la vittoria. Quasi? Ho ciò che il vostro prediletto non è riuscito a trovare. Ecco. Prendete. Anche se il tesoro non è l'unica cosa che mi sono portato dietro. Maestro! Siamo sotto attacco! Roberto di Sable cince d'assedio il villaggio di Masiaf! Dunque cerca lo scontro. Molto bene. Non lo deluderò. Vai! Informa gli altri. La fortezza deve essere pronta. Quanto a te, Altair, la nostra discussione dovrà attendere. Raggiungi il villaggio. L'annienta quegli invasori. Scacciali dalla nostra casa. Sarà fatto. Avanzamento rapido. Un ricordo più recente. E anche la nostra scontro. Non lo deludiamo. 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 Altaïr, fortuna che sei arrivato, ci serve aiuto Che è accaduto? Templari Hanno attaccato il villaggio Molta della nostra gente è fuggita Molta, ma non tutta Cosa ti serve che faccia? Distrai i templari Tienili occupati mentre io salvo quelli ancora all'interno Come desideri Un assassino! Via, donazione! Amore! No, 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 no. No, 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 no.